Il sistema giustizia rappresenta oggi il secondo campo di occupabilità per uno psicologo e le recenti normative prevedono l'obbligatorietà della presenza dello psicologo in moltissime situazioni. Il corso di laurea in psicologia giuridica, forense e criminologica risponde a queste istanze e a queste esigenze e con una particolare attenzione agli aspetti metodologici, agli aspetti teorici, agli aspetti deontologici prepara un professionista abile a lavorare nel sistema giustizia in modo completo ed adeguato. I laureati in questo corso di laurea possono lavorare nell'ambito della criminologia con le tecniche del criminal profiling e dell'identikit per esempio o possono lavorare nel mondo della vittimologia a sostegno delle vittime con le tecniche della valutazione e del pronto soccorso psicologico. La psicologa o lo psicologo forense lavorano alle indagini difensive in quanto conoscitori dei processi decisionali e di memoria e come conoscitori delle tecniche di lie detection. Ancora possono lavorare nelle REMS e nel sistema penitenziario o di restrizione della libertà in generale. Per raggiungere questi obiettivi formativi abbiamo disegnato un percorso particolarmente orientato alla pratica. I docenti interni sono affiancati da esperti che vengono dal sistema giustizia e formeranno gli studenti attraverso le pratiche lavorative. Attraverso queste competenze si arriverà a ricoprire un ruolo importante nel sistema giustizia e potremo contribuire ad un percorso importante di civiltà del nostro paese.